Quattro siamo. Se noi sono impazzeschi e siamo trimestre. Io gli faccio un abitore progetto e ti chiesto. Willi, pensando stessi. Io non fai vedere così, sono quattro potanti, ta. Tadà! Ho comprato. Hai fatto bene a te? Non c'erco il loro 139. Ho detto, pendant t i dec Resti. Sì, sì, sì. 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 Sì, sì.